Tutto il Catania minuto per minuto insieme ad Antonio Buemi, Carlo Fontanelli, Roberto Quartarone e Filippo Solarino. Perché questa enciclopedia del Catania? Si sentiva il bisogno di un'opera che andasse a scavare la memoria del calcio catanese. Per cui mai prima d'ora era stato dato cenno dei nominativi, dei giocatori della squadra che poi è diventata calcio Catania 46. E quindi una squadra in maglia rossa-azzura, già nel periodo fascista, scendeva in campo, difendeva i colori della società. Abbiamo scoperto che il primo presidente della società sportiva Catania era lo zio del poeta Salvatore Quasimodo. Una bella scoperta, perché non citare, perché non documentare il tutto con le fotografie dell'epoca. Abbiamo le fotografie in questo nostro lavoro di piazza esposizione, attuale piazza Verga, che dava spazio al campo di calcio dove per la prima volta la squadra in maglia rossa-azzura affrontava le rivali e tante volte riusciva a suonarcele. Anche qui una piazza che diventa una esposizione di una importante mostra agricola internazionale. Abbiamo la possibilità, martedì alle ore 18, presso la libreria Cavallotto, che gentilmente ci ospita ed è anche il nostro distributore ufficiale, di incontrare la cittadinanza, di presentare il libro. Modererà Nicola Savoca, un professionista affermato, e sarà l'occasione per incontrarci, per discutere e per fare un salto indietro. Non dimentichiamo che anche nel nostro lavoro si parla del centro sportivo e quindi è un momento di collegamento anche al presente. Qua vediamo una fotografia del 1960 a Messina addirittura. Eccola qua, adesso ci andiamo. Eccola qua, guarda un po'. Dalle stalle alle stelle. Mai prima d'ora era stato fatto un lavoro storico che andasse a focalizzare quella che è la situazione del calcio catanese nel suo insieme, ma soprattutto nel periodo storico prima degli anni 40. E quindi noi l'abbiamo fatto grazie a un paziente lavoro di ricerca bibliografica. Siamo andati alle fonti, abbiamo cercato di confrontarci quando c'erano dei dubbi su alcuni dati. Abbiamo tutti i tabellini. Mai prima d'ora era stato fatto un lavoro del genere. E siamo orgogliosi di poter dire che in poche settimane tutte le copie sono quasi state vendute. E siete alla ristampa. Siamo già alla ristampa. È un motivo di orgoglio trattandosi di persone che non sono scrittori professionisti. Al contrario, ciascuno di noi ha un proprio lavoro, una famiglia. Abbiamo rubato del tempo e l'abbiamo fatto con gioia. Non abbiamo avvertito la fatica perché siamo una bella squadra e abbiamo fatto centro. In bocca al lupo dunque, Alessandro. Grazie, Umberto. Alessandro, grazie. In bocca al lupo dunque per tutto il Catania Minuto per Minuto. dalle origini al 2010. Eccolo qua.